Vi farò ascoltare come si sente questo strumento che si chiama il bufù. Non abbiamo trovato le botti di legno, però ci siamo arrangiati con un bidone in plastica, cioè una plastica molto dura, molto dura. Adesso vi farò ascoltare alcune note di questo strumento musicale che è di Casa Carenda, nel Molise, provincia di Capopasso. Come potete ascoltare? Sono delle note, però in base alla canzone si suona il bufù. E' un piccolo assaggio solo per farvi ascoltare che lo strumento sta venendo particolarmente bene. Un abbraccio ai tempi musica etnica mediterranea. Ciao!